280 kg di cocaina purissima sequestrati per un valore al dettaglio di circa 43 milioni di euro, 16 arresti e oltre 2 milioni tra beni mobili e immobili requisiti ai malviventi. E' questo il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Firenze che insieme alla Direzione Centrale Antidroga ha decapitato un cartello internazionale che si occupava di rifornire di cocaina tutta Italia. Un cartello messo in piedi dall'endrine calabresi, segnatamente le famiglie Avignone e Paviglianiti. La droga, acquistata direttamente in Colombia, partiva dai porti del Peru e dell'Equador e giungeva a Genova e Gioia Tauro, nascosta all'interno di container che in diversi casi trasportavano banane destinate ad aziende italiane, risultate strane alle indagini. Altre volte, come si vede in queste immagini, la droga era contenuta direttamente nella struttura del container, il che ha reso ancora più difficile il lavoro delle fiamme gialle. Altre volte ancora, la cocaina era compressa in modo da simulare un carico di marmo. Le indagini sono durate tre anni e sono partite proprio dalla Toscana. Un'indagine che parte da un altro procedimento penale che aveva individuato nella zona della Lucchesi alcuni componenti affiliati all'andrina dei facchineri, che in qualche momento si occupava dello spaccio della sostanza stupefacente in quella zona. Da lì siamo partiti per arrivare ai fornitori di quei soggetti e quindi anche poi agli importatori. Importatori legati appunto all'Andrangheta calabrese, ma che operavano a Bologna, Alessandria, Palermo, Modena, Parma, Genova e Milano. Il cartello dei colombiani si rivolge privilegiatamente alle cosche di Andrangheta e queste provvedono alla distribuzione nel mercato nazionale secondo la legge del mercato, secondo la richiesta e quindi fanno riferimento anche a soggetti di fiducia che risiedono nelle regioni, nelle nostre regioni. Un'operazione così su vasta scala che in pochi, sbagliando, pensavano potesse essere portata in porto soltanto dalla Guardia di Finanza di Firenze. Da qui il nome dato all'indagine, Gufo 2013.